Ma già che stiamo parlando di Lautaro, il suo immobile a questo punto della stagione era a 27, Lautaro a 22, secondo lei ce la fa, raggiungere almeno il 36? Beh questo insomma lo dirà il tempo. Ho avuto un problema con qualche linea di febbre e quindi ho deciso di partire con l'Auti e va bene così. A proposito invece della prestazione, 22 clean sheet su 35 in stagione, per la nona volta su 25 giornate vincete con 4 gol di scarto. La domanda è semplice, è risposta forse un po' meno, ma è migliorabile quest'Inter? Assolutamente sì, perché mancano gli ultimi tre mesi di campionato che sono quelli più importanti. Noi non dobbiamo guardare le vittorie, è giusto essere contenti di quello che stiamo facendo, di questo bellissimo percorso, però non dobbiamo guardare le vittorie clean sheet, i gol fatti, i subiti. Noi dobbiamo guardare all'Atalanta che fra due giorni e mezzo saremo lì, sappiamo che è il momento più difficile perché tante partite, a volte bisogna cercare di lasciare indietro meno giocatori possibili perché abbiamo bisogno di tutti e la dimostrazione è stata stasera. Già, già. Andrea Stramazzoni. Ciao Simone, buonasera. Ciao Straman. Io penso Simone che stasera l'Inter abbia dato con i giocatori diversi una prestazione importantissima per te. Secondo me l'Inter di Inzaghi sta cambiando, o comunque sta scrivendo una pagina nuova della tattica del calcio italiano, perché comunque tu stai giocando a tre con un atteggiamento e delle soluzioni offensive importantissime. Il secondo gol lo testimonia, addirittura abbiamo sentito in settimana Luciano Spalletti parlare di un'idea di volerti disegnare anche addirittura l'Italia a tre. Quanto stai lavorando? Il secondo gol, Simone, penso sia la prova che con Audero, Aslani, Bissec, hai costruito qualcosa di veramente importante su 24 giocatori, non su 11. Quanto stai lavorando su quest'Inter che sta cambiando il calcio anche della difesa a tre? Ma quello tantissimo, insomma. C'è tanto lavoro, io ho la fortuna di avere uno staff con me da più di dieci anni, quindi ci conosciamo a memoria, cerchiamo di lavorare tanto e quindi poi abbiamo la fortuna di avere una società alle nostre spalle che cerca di fare sempre andare le cose come vogliamo, dei giocatori con una grandissima disponibilità e in più, insomma, vedere per un allenatore giocare la squadra in questo modo. Poi, per quanto riguarda il primo gol, abbiamo parlato di Audero, Bissec e Aslani, che sono giocatori che non stanno giocando sempre, è la più grossa soddisfazione, penso, per un allenatore che ci sia. Inzaghi, le riporto un po' di numeri. Il Milan prende sette gol tra Monza e Ren, la Juventus conquista solo cinque punti nelle ultime cinque, voi ne fate quindici nelle ultime cinque. È un po' più tranquillo guardando a quell'obiettivo là che vi siete prefissati? No, perché sappiamo che manca ancora, come ho detto prima, gli ultimi tre mesi, tantissime partite, tantissimi punti in paglio e dobbiamo sempre cercare di migliorarci. Chiaramente adesso non ho ancora rivisto, solo 1-0 l'occasione di Blin, probabilmente dovevamo fare meglio quella che abbiamo concesso di testa e quindi ci sarà motivo di vedere dove potersi migliorare. Poi, come ho detto prima, i ragazzi stasera su un campo difficile contro una squadra che in casa sta facendo il campionato tranquillo che sta facendo, ha perso con il Juventus, con il Napoli e con il Torino, ha perso tre partite e ha costruito i suoi 24-25 punti tutti in casa quasi. Quindi era una trasferta che veniva a 72 ore dall'Atletico Madrid e sappiamo la Champions quanto costa a livello di energie. Simone, a novembre, prima di Natale, i tifosi interisti avevano forse qualche dubbio, no? Se manca Lautaro, se manca Turam, c'era qualche dubbio nell'area. Arnautovic ha dato delle risposte importanti nelle ultime partite. Sanchez stasera non ha segnato ma a me è piaciuto tantissimo. Ti hanno dato delle risposte anche a te che probabilmente conoscevi ma ora le hanno date un pochino a tutto l'ambiente? Sì, hanno dato a tutto l'ambiente ma io se andate indietro a vedere cosa ho letto di Arnautovic e Sanchez non mi servivano vedere queste due partite. Insomma, Arnautovic con l'Atletico avete visto cosa ha fatto e Sanchez stasera penso che abbia fatto una partita straordinaria. Mi dispiace che non abbia fatto gol ma insomma di gol ne ha fatti tanti in carriera è stato bravissimo, insomma ha dimostrato il campione qual è. Quindi neanche quella con l'Atalanta è il match point scudetto, Zaghi? Assolutamente no, una partita... Niente, non ce la faccio. Senti, Simone, è così, l'ho detto dopo la Salernità, dobbiamo rimanere concentrati anche quando dormiamo. I ragazzi lo sanno perché adesso abbiamo avuto un gennaio, un febbraio molto tranquillo dove abbiamo potuto sempre giocare 5-6 giorni, dove recuperavamo bene le forze. Non si perdevano giocatori, adesso oggi avevamo 6 assenti e non è semplicissimo per noi allenatori. Però l'obiettivo è quello di continuare a vincere e cercare di non lasciare indietro giocatori importanti.